Il piatto che presentiamo quest'oggi è del pollo speziato. Per la preparazione di questa ricetta iniziamo a rosolare all'interno della padella con una noce di burro del porro tagliato a dadini. Lo facciamo appassire dolcemente, aggiungiamo il pollo e lo facciamo rosolare da entrambi i lati. Una volta che è ben rosolato iniziamo ad aggiungere della foglia di menta, dello zenzero grattugiato o altrimenti tritato. Facciamo insaporire bene il tutto, aggiungiamo dell'aceto balsamico e facciamo insaporire nuovamente la nostra salsa. Per ultimo aggiungiamo la nostra panna leggera della parmalat, sale e pepe che servirà per andare a condire il tutto. Facciamo ristringere la salsa e andiamo ad accompagnarla impiattandola con insalatina novella o con delle verdure al naturale.